Uno stadio da 7.500 posti, un catino infernale, così chiamavano gli avversari il celeste, messo totalmente a nuovo, costa troppo il mantenimento a pieno regime dello stadio San Filippo, oltre 500.000 euro per luce, acqua e gas, e allora meglio tenerlo solo per le occasioni speciali, spegnere quelle luci e utilizzare quello che ha visto i fasti del Messina di Franco Scoglio, quello stadio celeste che è ridotto ad un letamaio, costa molto di meno e può rivelarsi il dodicesimo uomo in campo. C'è un progetto messo a punto in tempo record da uno staff di primo ordine, sarà consegnato a salvezza raggiunta al Comune, prevede la totale messa in sicurezza, per ora l'impianto è inagibile, per la presenza del pubblico ci sarà un ristorante, una gradinata coperta, la tribuna coperta sarà resa più funzionale, sarà realizzato uno spogliatoio in più che darà la possibilità di ospitare tre squadre contemporaneamente e di organizzare eventuali tornei. Il costo circa 2 milioni di euro, un milione e mezzo li anticiperebbe il credito sportivo, il resto la società, tutto questo però in cambio di una concessione a lungo termine. Il presidente Proto, che ufficialmente non ha ancora incontrato il sindaco a Corinti, ha parlato di almeno 30 anni, da parte sua il presidente della commissione sport, Piero Adamo, presente in studio, ha già messo le mani avanti non più di 30 anni, restrizioni sulle attività e persino clausole che prevedano di rivedere la concessione nel caso in cui il titolo professionistico venga perso. Il progetto sarà presentato entro un paio di settimane, dovrà essere approvato dalla giunta comunale e passerà poi in consiglio comunale per il voto finale.